Qualcuno dice che io alimento le paure, ma sono in buona compagnia visto che anche uno dei principali quotidiani britannici oggi denuncia il rischio di infiltrazioni terroristiche sui barconi. Ci sono arrivati i servizi segreti spagnoli, ci sono arrivati i tedeschi, ci sono arrivati i francesi, probabilmente gli italiani ci arriveranno per ultimi. Io vorrei alimentare una prevenzione sana e intelligente, la paura la sta alimentando chi fa sbarcare migliaia e migliaia di persone di cui non sappiamo nulla. Noi abbiamo presentato anche un esposto nei confronti di Renzi e Alfano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, vediamo se prima o poi qualcuno ci darà ragione.